e ha finito di guardare il live su twitch un video che non è un video è un come possiamo definirlo vomito di bile un tale tweener youtuber tweener copia sbiadita e posticcia di youtube fa cagare diciamo è lo youtube fa cagare dei frustrati degli incel dei redpillati fa tutta una serie di contenuti contro le donne e emerge in maniera forte l'olezzo della tossicità maschilista lui fa tutta una serie di video contro le donne sempre colpevoli di qualcosa di essere di essere troppo vittime di essere troppo ammiccanti di essere troppo attaccata al denaro tutti i difetti delle donne perché questo twitter fa questo perché ha capito che c'è una nicchia di ebeti nel mondo di frustrati di gente che non ha rapporti umani sociali senza educazione o semplicemente parmocchietti a cui raccontando la storia che la colpa delle loro frustrazioni delle donne che questo mondo in realtà non è maschilista ma è un mondo dove domina la donna e quindi il maschio ora frustrato è chiuso in sé che non ha le opportunità di emergere lavorare colpa della donna lui fa tutta una serie di video di questo tenore dove usa un linguaggio vergognoso che se parlasse come ha parlato in questo video contro Maria Sofia di una persona che conosco di una donna che conosco la prima cosa che farei una denuncia proprio seduta stante e questa sua frustrazione gli ha fatto fare questo video contro Maria Sofia ora per chi non conoscesse la vicenda saremo velocissimi Maria Sofia è una ragazzina che a 16 anni ha fatto un programma televisivo il collegio è diventata molto popolare perché comunque molto particolare a seguito di quella presenza televisiva e il video di sto copia sbiadita YouTube fa cagare inizia mostrando come Maria Sofia durante quel programma diceva io sono Maria Sofia a 16 anni e sicuramente cambierò il mondo dopodiché l'immagine che lui mostra dopo creando lui un'associazione agli spettatori è l'Holy Fans di Maria Sofia perché lei quando ha raggiunto 18 anni di età ha aperto l'Holy Fans e inizia a predicare questo tweener è così che cambierà il mondo non tagliandoti peli sotto le ascelle e aprendoti il tuo Holy Fans allora ma siamo giunti veramente in questo momento storico dove prendiamo le frasi ovviamente un po' ingenue di una ragazzina di 16 anni che vuole cambiare il mondo e che dopo due anni magari crede ancora in quello che ha detto ma ci crede in un modo diverso o comunque fa delle necessità virtù delle virtù necessità o fate voi tanto da aprire un Holy Fans dove secondo tweener è in contraddizione con il suo utopia allora io pure potrei criticare qualcuno che dice voglio cambiare il mondo sono inclusiva faccio l'attivista e poi apre Holy Fans andando a riprendere un po' lo spettacolo di Chris Rock indignazione selettiva sono inclusivi verso il sesso, verso la religione, verso tutto ma non coi poveri alla fine pure il povero deve pagare per avere contenuti erotici che hanno quella forma di Holy Fans che sembra molto intima ma una critica del genere non la muove una ragazzina di 18 anni che può avere tutte le contraddizioni del mondo come ovvio che sia e addirittura queste contraddizioni è ovvio che siano ancora più forti tra le parole della ragazzina di 16 anni e quella di 18 non vada a rimproverare questo Maria Sofia ma qual è il problema secondo tweener? è che Maria Sofia denuncia solo per opportunismo di essere stata in poche parole derubata dei contenuti che lei vendeva su Holy Fans denunciando di aver subito revenge porn praticamente subito delle foto intime che dopo che le ha vendute qualcuno che le ha acquistate le ha divulgate su internet ovviamente è revenge porn non ci serve uno scienziato per capire che questo è revenge porn perché questo crea un danno di immagine reputazionale anche personale alla ragazza ovviamente perché? perché se tu mi chiedi qualcosa in privato su Holy Fans fai questo, questo e quest'altro magari cose che nella tua intimità non faresti mai che però per lavoro perché il lavoro che fai è quello di sex work realizzi questo contenuto che ti viene pagato un conto è che ne godi tu che hai pagato di quel contenuto un conto è che lo metti in giro dove le persone possono pensare che a te piacciono quelle determinate pratiche sessuali che faccia parte della tua persona quel modo di relazionarti a livello erotico e permettete che una ragazza possa voler fare la sex work realizzare a pagamento queste cose ma non vuole che siano viste fuori dal contesto lavorativo e quindi subisce un danno anche emotivo cioè il pensare che magari i suoi genitori e i suoi amici possono pensare che lei fa quello quando in realtà non lo fa lo fa soltanto per lavoro e non nella vera intimità pensate che anche che uomini possono approcciarsi a lei pensando che lei faccia quelle cose nella sua intimità è revenge porn ora non volete credere a Dellimello che è il solito troll eccetera allora io credo che quando utilizziamo le parole questo tweener dovrebbe farlo copia sbiadita di youtube fa cagare che manco si informa youtube fa cagare si informava allora andiamo a vedere un attimo che cosa dice il codice penale il codice penale parla di articolo 612 ter diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti un attimo che cambio la la visione salvo che il fatto costituisca costituisca più grave reato cioè se ci fosse un reato più grave nel fare quello che si fa allora ci sarebbe imputati per quello chiunque dopo averli realizzati o sottratti invia consegna cede pubblico diffondo immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati con la reclusione e con la multa e uno qui potrebbe dire beh vedi Delli chiunque dopo averli realizzati o sottratti non sono stati sottratti sono stati venduti la stessa pena si applica a chi avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma che è quello l'invia consegna cede pubblico diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro il documento e qua sotto ci sono tutte quante le aggravate stiamo parlando di vero e proprio revenge porn e non è un cazzo di sfigatino copia sbagladita di youtube fa cacare che mentre gioca ai videogiochi può decidere cosa è e cosa non è revenge porn stabilire il senso di disagio delle vittime in base al suo modello di valore di uomo eterocisto non lo so magari in bianco mi hanno detto che non lo è comunque sicuramente non è lui che può decidere qual è il livello di disagio che mi ha creato quella situazione e poi sapete come fa lui lui poi colpevolizza la vittima e alla fine di tutta questa situazione lei ci ha guadagnato e ci mancherebbe altro non ho capito perché da un'esperienza negativa io debba soltanto prendermi la merda dall'esperienza negativa devo stare rintanata zitta e muta con le tapparelle chiusi in casa come un nerd sfigato che gioca solo ai videogiochi devo mettermi a piangere devo per forza fare questo non posso trarre un vantaggio da un'esperienza negativa che mi succede quindi se io faccio un incidente con la macchina non devo avvalermi dell'assicurazione altrimenti non sono una vittima sono solo uno che ci vuole guadagnare ma che cazzo c'entra e la cosa peggiore è che lui va a fomentare questo linguaggio redpillato incellato sfigato perché sa che tantissimi ragazzi oggi forse anche il caso del covid soprattutto i giovanissimi hanno questa frustrazione nei confronti delle donne che ragazzi ve lo voglio dire non si cura guardando i video che dicono queste cazzate si affronta con un terapista fatevi aiutare se pensate le cose che ci sono nel video cioè se voi avete pensato che nel video vengano dette cose minimamente minimamente interazionali vi dovete far aiutare vuol dire che avete dei grossi problemi di frustrazione verso le donne che possono sfociare in cose terribili e voglio dire una cosa all'eventuale reazione a questo video di Twin non mi accimentare non mi rompere i coglioni che veramente sono interessato al tema del revenge porn e non a te quindi ti prego evitare la risposta e voglio dire una cosa anche a Maria Sofia che so che fa l'attivista e odia l'uomo che difende le donne io non sto difendendo le donne o Maria Sofia perché non è in grado io mi sto mettendo nei panni di una persona che oggettivamente sta diventando genitore di una bimba e se avessi sentito una coglionata come questa che ho appena sentito di Twin diretta non a Maria Sofia ma a mia figlia io non minimo una denuncia se la beccava matematicamente ma non perché io debba difendere mia figlia perché femmina ma perché il padre più grande difende la figlia più piccola è una cosa che fa parte dei tempi dei dinosauri quindi attiviste femministe non venitemi a rompere il coglione col Mace Plaining è la sindrome del cavaliere bianco e il cavaliere nero perché comunque sì al cavaliere nero non gli deve romper cazzo detto questo quindi vi saluto e per cortesia fatevi aiutare veramente per voi fatevi aiutare grazie a tutti